Sì, noi ci siamo costituiti parte civile, primo per una solidarietà processuale, siamo in serie processuale e questo è il significato della nostra presenza. Poi ovviamente per continuare a testimoniare la vicinanza alla famiglia in questo processo, ma mi verrebbe da dire anche negli altri fatti normatici che in quel periodo si sono succeduti nella città di Perugia, è evidente che la Costituzione in questo processo è simbolica. Non vogliamo vendetta ma giustizia, lo ha detto la famiglia, lo ha detto la comunità anche qualche giorno fa al ricordo di un anno dall'omicidio e soprattutto voglio testimoniare in questa presenza la voce di tutti i perugini che chiedono giustizia, che chiedono sicurezza, che vivono nella nostra città e vogliono farlo con tranquillità. In questo momento di crisi avere la sicurezza è un diritto costituzionale fondamentale, per cui amplifico l'urlo dei perugini sedendo in questa aula di tribunale e mi auguro che la giustizia possa fare brevemente il suo corso. Grazie. 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 Grazie.